La Regione Toscana ha destinato altri 2 milioni di euro al sistema fluviale dell'Arno. Il finanziamento è al centro di un protocollo firmato dall'assessore regionale trasporti Vincenzo Ceccarelli con i rappresentanti della provincia di Pisa e dei comuni affacciati lungo il fiume, ovvero Arezzo, Capolona, Prato Vecchio, Stia, Poppi, Montevarchi, Firenze, Pontassieve, Incisa Figline e Rignano sull'Arno. Grazie a queste risorse e ad altri 7 milioni e 600 mila euro provenienti dal Fondo Sociale di Coesione, entro il 2020 sarà completata la ciclopista dell'Arno a sentiero della Bonifica, lunga 400 chilometri, la più grande infrastruttura ciclabile della Toscana. Questi sono finanziamenti che vanno ai comuni, che si affacciano sull'Arno per la realizzazione di opere di riqualificazione delle sponde, di miglioramento della fruibilità e anche in alcuni casi di adeguamento e di completamento di ciclopiste che si connettono con quella dell'Arno. Allo stato attuale il 46% della lunghezza totale della ciclopista è percorribile o in fase di realizzazione entro il primo semestre 2019, per il restante 54% è in corso la progettazione. Il Comune di Firenze utilizzerà la sua parte per il ripristino del patrimonio arboreo del Parco dell'Anconella, devastato da un uragano il primo agosto del 2015. Con appunto anche queste risorse noi ripristiniamo tutto il patrimonio arboreo sia della sponda sinistra dell'Arno sia della sponda destra, quindi tutta la parte dei giardini di Bella Riva ma anche dell'aiola spartitraffico di Lungarno Aldomoro Colombo e dall'altra parte il Parco dell'Anconella. Il Comune di Lignano invece utilizzerà i fondi per realizzare 300 metri di un nuovo campo da pesca. Questo è un primo step e noi ne siamo grati al progetto regionale di 300 metri che poi proseguirà con un progetto ben più ampio che vedrà veramente la valorizzazione anche con delle infrastrutture importanti su tutta la riva sinistra del territorio di nostra competenza. Grazie.